non abbiamo il tempo qui per ricordare ogni momento della nostra storia è iniziata quando avevamo 14 anni tra i banchi di scuola e dopo quasi 20 eccoci qua hai cresciuta come noi e con noi proprio come quei due ragazzi siamo diventati adulti insieme e con te ho imparato a ascoltare ritmo no Sì, è bellissima! Sì, è bellissima! Sì, è bellissima! Sì! Sì, è bellissima! Sì! È bellissima! È bellissima! Sì, 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 è bellissima!